Ciao a tutti, sono la Cioci, ci vediamo domenica il 15 gennaio allo stadio Areichi di Salerno, dove io sarò la madrina della partita di beneficenza con la Nazionale Artisti, con il vostro aiuto raccoglieremo i fondi per tutte le vittime del terremoto di Amatrice e per me questa è una cosa molto importante perché nella vita dobbiamo aiutare le persone che hanno veramente bisogno, quindi spero di vedervi tutti lì allo stadio questa domenica e ci divertiamo un po', ciao a tutti!